Presidente Di Battista, l'importanza di questa missione in Russia che ha visto ancora una volta il territorio fare sinergia e ottenere risultati ancora una volta anche qui fuori di ogni previsione? L'importanza di questa iniziativa la vedo particolarmente significativa perché è un esempio, è un campione di come il territorio può essere vicino alle imprese del territorio, le piccole dimensioni hanno spazio purché, e l'abbiamo sentito dagli stessi operatori, le istituzioni che gli sono vicine e per quanto riguarda il discorso internazionalizzazione sono questa serie di iniziative che danno le risposte. Poi naturalmente ci deve essere anche a livello regionale, a livello nazionale dimensioni diverse ma per entità diverse, quindi noi dobbiamo essere vicini tanto per capirci alla piccola azienda con iniziative che riguardano le istituzioni locali, alle cosiddette multinazionali tascabili che hanno già un dimensione diverso e poi naturalmente la politica estera che è deputato il governo e dietro quella noi poi facciamo scia. Poi queste iniziative naturalmente devono essere curate, abbiamo visto che ci sono delle risposte, la soddisfazione è che quasi ormai in maniera imbarazzante le cose che proponiamo ci dicono sempre tutti, se alimentazione è buona, se moda dice che bella.